Ciao, siamo con Alessandro Giammoena, anche lui è di Liguria Inna, qua sulla sua digitale channel e senti Alessandro, ma cosa ti è passato per la testa di fare questo Liguria Inna? Beh, mi è passato per la testa, è un'iniziativa secondo me straordinaria, originale, soprattutto per la nostra regione, innovativa perché il fatto è che molti imprenditori, molti addetti nel mondo del lavoro, possano comunicare con loro, parlare con loro questo può aiutare, aiutare perché? Perché il digitale, il social network può essere utile? Spiegami Perché il social network, l'internet, soprattutto il social network riduce lo spazio e il tempo e quindi già va oltre, valica ogni territorialità, si può parlare con il mondo stando a casa propria, ma parlare lo stesso con il mondo e quindi aumentare il proprio business interagendo anche con il mondo globale e questa è la grande, straordinaria... Quindi voi pensate che finalmente portare un po' di social network, un po' di digitale qui a Giro, ma poi Liguria possa servire forse a svegliare questo territorio che fa certe cose un po' dormiente? Certo, perché uno strumento è comunicazione efficace, la comunicazione apre, ha molte opportunità e mette in gioco soprattutto gli imprenditori che hanno nuove effetti di mercato, hanno nuove opportunità per crescere e soprattutto hanno questa grande popularità, parlare con il mondo e cercare di crescere e mantenere solito il proprio tessuto e la produzione. E un'ultima battuta, qual è l'imprenditore che ti piace? Sintetizzamelo in 10 secondi. Ah, l'imprenditore che mi piace, io ne ho un sogno, ne ho uno di un modello, è l'uomo che è nato dal nulla, che si è creato, che si è organizzato da sé, è l'imprenditore che rischia di suo e che nella sua vita ha sempre portato avanti, diciamo così, il rischio è sempre stata… Il rischio sul mestiere? Non solo il rischio, ma il fatto di credere in quello che fa e l'amore in quello che ha fatto. Bene, fantastico. È il modello di imprenditore. Ecco, questo mi piace, ti saluto e saluti tutti quanti, ciao! Ciao, ciao a tutti!